I carabinieri della stazione di Favignana nel corso del fine settimana hanno ricevuto la segnalazione da parte di un genitore che disperato non riusciva più a trovare il figlio di tre anni. Il piccolo si era allontanato con una bicicletta dalla casa vacanza nel centro storico facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno immediatamente attivato le ricerche fino a quando sono riusciti a rintrecciare il bambino che era giunto in prossimità del porto peschereccio dell'isola di Favignana. Si concludeva così nel migliore dei modi la vicenda, il piccolo è stato riaffidato nelle mani dei genitori che hanno ringraziato di cuore i carabinieri per il tempestivo intervento.